Dopo la Costituente nazionale e anche quella regionale della Toscana e soprattutto l'elezione da parte dell'Assemblea dei Delegati del nostro coordinatore provinciale di Arezzo, per fortuna partiamo dal mese di gennaio con il radicamento del partito nel territorio. Cosa vuol dire radicamento? Vuol dire a questo punto creare effettivamente delle unità di basi che li chiameremo circoli e in questi circoli saranno proprio le strutture a cui ogni cittadino chi ha interesse per il Partito Democratico si potrà rivolgere, cioè sarà esattamente la sede territoriale. Per questo noi diamo inizio alla nostra campagna il 4 di gennaio. Sarà un'iniziativa nella sala consigliare del Comune di Sansepolcro aperta a tutti i cittadini e soprattutto a tutti coloro che sono interessati a questo percorso. Sarà l'iniziativa aperta dal nostro coordinatore provinciale Marco Meacci e illustrerà tutto quello che è questa fase organizzativa di Costituzione del Partito Democratico e avremo anche l'occasione per consegnare i primi certificati di socio fondatore. Infatti tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni delle primarie possono, e arriverà a casa una lettra, ritirare, cioè diventare soci fondatori del Partito Democratico. L'aver ritirato il certificato gli dà la possibilità poi il 27 di gennaio, che ci sarà delle assemblee nei vari tre ex seggi del 14 di ottobre, che ora diventano circoli, di votare, in base a delle liste di autocandidatura, di votare per i delegati. Tutti coloro che sono interessati a questa nuova entità si facciano pure avanti, chiedano informazioni, la nostra sede qui temporanea del Partito Democratico è l'ex sede dei DS in viaggio torto, tutte le sere saremo qui, chi è che è interessato può venire e chiedere informazioni. È importante la partecipazione dei giovani, della gente e delle donne. Perché le donne? Le donne devono essere il 50% della nuova direzione, quindi hanno un ruolo importantissimo. È importante la loro presenza perché sappiamo benissimo come le donne hanno una visione diversa, una visione più pratica, più a contatto con i problemi, capace di dare delle risposte immediate.